Gesù è sospeso tra cielo e terra, sanguina da tutto il corpo. La madre sua è vicina alla croce, sta in piedi, silenziosa, con gli occhi suoi rivolti a Gesù. Agonia tremenda del Redentore, ma martirio insuperabile per Maria Santissima. Il figlio morente chiede un sosso d'acqua, uno dei soldati presenta una spugna con aceto e fieli. La Madonna osserva tutto, ma non reagisce. Gesù si contorce sulla croce agli estremi, la madre sua segue ansioso ogni movimento e quando lo vede espirare, il suo cuore è trapassato dalla spada del dolore. Ave Maria, piena di dolori, il crocifisso è con te. Addolorata sei tu fra le donne e addolorato è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre del crocifisso, ottieni lacrime di compunzione a noi, crocifissore del figlio tuo. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.